Siracusa, fase 2 all'Umberto I, riapro nel reparto di geriatria, pediatria e stroke unit. Con l'inizio della fase 2 dell'emergenza coronavirus, l'aspetto di Siracusa si avvia a una graduale ritorno alla normalità, ovvero alla riattivazione dei servizi ospedalieri provvisoriamente ridotti o sospesi durante la fase 1. È stato riaperto il reparto di pediatria all'ospedale Umberto primo con l'attivazione dei primi sei posti letto ai quali seguirà nei prossimi giorni la graduale riattivazione dei rimanenti posti. La direzione medica di presidio è disposta inoltre che affardata dal 18 maggio riprenderà l'attività del reparto di medicina geriatria con i primi otto posti letto e della stroke unit con sei posti letto. Anche in questo caso seguirà la graduale riattivazione di tutti gli altri rimanenti posti. Si precisa tuttavia che la trombolisi è stata ininterrottamente assicurata anche durante la fase 1. Pertanto la riapertura della stroke è relativa alla degenza poiché l'operatività non era mai stata sospesa. L'andamento della curva epidemiologica inoltre detterà i tempi nei prossimi giorni anche relativamente ai programmi di rientro dei reparti di oculistica e oncologia. L'obiettivo della direzione aziendale infatti è quello di ripristinare la piena funzionalità del presidio ospedaliero Umberto I compatibilmente con la tenuta del sistema dal punto di vista epidemiologico.